ciao buongiorno sono uscite le date del tour il mio gioco preferito european tour 2019 quindi dopo il 22 settembre all'arena di verona dall 8 di novembre italia ed europa ci vedremo staremo insieme e io non vedo l'ora poi aspetta perché c'è un'altra novità da domenica 2 giugno per quattro domeniche consecutive io cambio mestiere se per saperne di più alle ore 13 tenete d'occhio i miei profili e capirete cos'è